Inizialmente si pensava di collocare sull'altare della Cappella Contarelli una statua, una statua commissionata a un maestro fiammingo, molto noto all'epoca, Cobart. Rappresentava appunto San Matteo ispirato dall'angelo che scrive il Vangelo. Questa statua però non piacque, fu tolta e allora fu chiesto al Caravaggio di completare la Cappella Contarelli con una pala d'altare. La fece e fu pronta entro il 1602. E' una rappresentazione che ancora una volta ci riporta alla dimensione onirica del Caravaggio. La storia sacra dice che un angelo guidò la mano di Matteo, uomo semplice e quasi illetterato. E Caravaggio rappresenta questo angelo dolcissimo e meraviglioso che plana letteralmente dal cielo e gli detta il Vangelo. E nulla toglie a questo il fatto che le sembianze di Matteo restino ruvide, aspre, sbalordite. La realtà è la fantasia. Le due grandi dimensioni del Caravaggio.